Buongiorno a tutti, i violini della seconda C insieme alla professoressa Tataru vi presentano un piccolo momento musicale per augurarvi un buon 2021. Io sono Amanda. Io sono Sofia. Io sono Kila. Io sono Jennifer. Io sono Kate. Io sono Amal. Professoressa Tataru, buon ascolto! Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.